Tempi moderni al telefono Dopo essere stato per anni uno degli oggetti consumistici più amati finalmente il mito del telefono sempre a portata di mano incomincia a trovare qualche nemico Contro il dialogare dei cellulari si è schierato anche Umberto Eco che li accetta solo per tre categorie i portatori di handicap, i politici e gli adulteri Potremmo aggiungerci i medici e gli idraulici Tutti gli altri che credono faccia molto in esibire il telefonino in tasca o nella borsa dovrebbero considerare come i veri VIP cioè le persone veramente importanti non si sognano nemmeno di essere raggiungibili a ogni ora del giorno e della notte Il cellulare ha cambiato il modo in cui comunichiamo Ma un telefonino significa sicurezza e libertà o dipendenza e schiavitù?